Ninfeo A-S-M-R Ciao a tutti Ciao a tutti e tutti voi carissimi dei miei come state? Io oggi approfitto di questo break dai lavori di muratura che stanno facendo nella scala adiacente all'unico palazzo per registrarvi questo video per stasera oggi è venerdì e io sono tornata da tre 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 giorni a Madrid ho fatto una piccola vacanza con la mia carissima amica del canale dove c'è scafè dove c'è scafè dove c'è scafè siamo state appunto in Spagna e ho trovato Madrid veramente veramente stupenda mi ha stupita tantissimo e consiglio a tutti coloro che non l'hanno mai vista di considerarla come possibile meta perché davvero è una città splendida quasi un museo a cielo aperto bene ma oggi io con voi con voi con voi voglio fare una sessione di super rilassamento con un dolcissimo massaggio alla testa e nel motivo per cui al di sopra del mio bluieli c'è colpi 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 che è il let cat che mi ha regalato Paolo e che ormai conoscete molto molto bene per tutta la durata del video utilizzerò questo tono di voce estremamente close up e in puro whispering passando da un orecchio all'altro quindi il mio consiglio è quello di mettervi comodi 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 indossare le vostre cuffie e i vostri auricoli e prepararvi a una sessione di rilassamento intenso e di massaggio del vostro cuoio peperluto ovviamente sarà un massaggio super delicato come sto facendo in questo momento tutto ok siete pronti? allora immaginate allora immaginate che il mio dito scorra tra i capelli tra i capelli tra i capelli tra i capelli che vanno a massaggiarvi la testa per i capelli in modo estremamente delicato in modo estremamente delicato quindi lo lavoriamo a guidarmi dalla mia voce Per cominciare a lasciare da parte i pensieri, tutti i pensieri che non lasciano riposare per bene come dico spesso, non c'è niente più un momento di relax solo per voi comunque ho scoperto una parola molto tricherosa in spagnolo molto molto tricherosa e infatti l'ultimo giorno, mercoledì, c'è stato un acquazzone molto forte molto 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 forte e c'era un venditore ambulante che vendeva un baralli e praticamente continuo a dire in modo non stop paragua 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 troppo super super tricheroso perché in spagnolo paragua significa un paragro adesso ragazzi che anche dei video, dei trick, dei passaggi e di tutto quanto alla fine vi parto del whispering e spero che mi perdoniate voglio perché non è ancora una parte di tutto quello che vuoi fare e poi vediamo a l'lippang tra i capelli 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 in modo delicato delicatissimo comunque best trigger 2023 paracu 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 nuovo mouth salt per verità adesso prendo questa spazzola no 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 ha i tendini molto morbidi quindi ha un suono estremamente licevole per il momento in cui li tocco la battaglia articola cosa sono? perchè qui ho usato delle fracche la battaglia la battaglia la battaglia e intanto soggiare quei due lì del materiale per il prossimo role play immersivo sullo stile di quello della spa e quello della bakery sono un po' indecisa ho in mente un role play immersivo super estivo un'altra cosa un po' più strana un'ambientazione che mi aveva mai portato però come vi ho spiegato mentre vi pentino c'è davvero dietro tanto 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 lavoro per creare un ambiente in 3d e quindi bisogna pensare bene al video da fare perché la preparazione molto lunga perché la preparazione molto lunga si non ci sono come un'altra cosa è un'altra cosa qu'è il diretto la preparazione il tuo il tuo il tuo luogo per ora proprio creare una prevista di rarmi per sé prima poi Anna è super lento e l'altra spuzzo perché adoro la scuola 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 trova troppo bene questo spazzolo a proposito vi lascio il link per diventare influencer amazon se ne avete insomma la voglia a un link affiliato quindi se volete magari a questo punto visto che sono già 20 minuti di video a questo punto vi sarete già addormentati ma se volete anche voi per fare o guadagnare qualcosa da amazzona vi lascio il link per iscrivervi al programma influencer.link affiliato scusatemi per qualche ruore molesto credo sia non correggio per ai anche se ora è un pranzo però ci tenevo troppo a guardarvi il video del venerdì ci tenevo troppo a guardarvi il video del venerdì spero che i lavori non continuino anche il settimana prossima perché devo portarvi avanti per farvi il video per la settimana successiva con questo ruber più 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 阪 più 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 carrarr più Anzi, visto che devo ancora girare un sacco di video per portarvi avanti, fatemi sapere giù nei commenti se c'è qualche video particolare che vorreste vedere. Magari dei video assaggi, perché mi sono molto molto piaciuti i video dei Magnum. Diciamo che nell'ultimo periodo i video assaggi sono quelli andati meglio. In linea generale, sono un video che sono anche piuttosto semplici a girare, quindi se vi piacciono tanto e per me sono semplici, è una doppia vittoria. Però, datevi idea, se cosa vi piacere, perché io ho assaggiato, sì, perché io ho assaggiato, sì. Tanto il massaggio è ancora un pochino con il capello, Un po' dietro. Non so che questi video sono super super liberi, tutte le domande che ho fatto da metà video in poi. Non avrò una risposta, ma ci sta, anzi meglio. Te lo chiederò in un'altra sedia, magari su Instagram. Su Instagram ho fatto un bel po' di storie di Madrid. Infatti, invito tutti voi che magari ancora non vi seguite su Instagram. a farlo, perché, ammettamente, sarei super attiva, ma... Diciamo che quando faccio qualcosa fuori dall'ordinario, cerco sempre di documentarlo. in questo caso, appunto, è il mio aggettino. E il mio profilo si chiama Erika Molinari, quindi il mio nome e il mio cognome. inizialmente avevo anche un profilo dedicato proprio al canale, ma... Cioè, non riesco a andare dietro a uno, a uno, a uno, a uno, a uno. Figurante più due, quindi l'ho abbattato. Avevo preso qua anche un pacchettino di pazzaretti, per farvi un po' di suoni grigli, perché così vado un pazzire. Per farvi per i rumori, rispetto ai tre panni di stamattina, questo semplice via-pai di operai mi sembra praticamente omoroso. Come sapete di solito non tocco quasi mai la capsula del microfono, lo faccio solo nei video dedicati al massaggio alla testa. Per te devo dire che è un trigger che mi sta piacendo, fa sentire un po' apporti, non so come spiegarlo. Quasi sono i pazzolettini che vi ho consigliato nel video di mercoledì dei preferiti. e niente, in effetti miei carissimi, io spero davvero 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 che il video vi sia piaciuto e vi abbia rilassato. Io vi auguro una splendida, 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 splendida notte. e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video al prossimo video al prossimo video al prossimo video. Ciao!